Dal 17 al 26 marzo non lasciarti scappare le grandi offerte del supermercato PAM ad Avola. Risparmierai acquistando tantissimi prodotti. Passate a verace cirio da 700 grammi a 89 centesimi. Omogenizzati in mellin alla frutta a vari gusti due vasetti da 100 grammi a 99 centesimi. Omogenizzati in mellin alla carne e vari gusti due vasetti da 120 grammi a 1,89 euro. Carta igienica Foxy colorata seta 4 rotoloni più 2 a 1,99 euro. Pisilini Findus primavera da 750 grammi a 2,99 euro. Latte Granarolo da 1 litro a 69 centesimi. Detersivo sole super concentrato 2 profumazioni da 750 ml a 2,99 euro. E da noi troverai tante altre offerte con il 25% di sconto. Il supermercato PAM dispone di un ampio parcheggio e offre alla propria clientela una vasta scelta e prezzi imbattibili. Nere parti ortofrutta, macelleria, salumeria e latticini. Ci trovate in contrada a Borgellusa ad Avola tutti i giorni con orario continuato dalle 8.30 alle 20.30 e domenica dalle 9 alle 13. Più PAM più risparmio.